Dopo vari aggiornamenti e risoluzioni riguardo a Call of Duty che non si avvia, anche se provando a fare gli ultimi aggiornamenti e cliccando su gioca, dice avvia in corso Steam Client Service ed eccolo qua, sta su ferma e basta, questo è, clicco su avvia, clicco su gioca, ferma e poi rimane su gioca. Quindi può essere che Windows Defender blocchi così la cartella del gioco eliminando i suoi file, questa cosa la facevo anche su moltissimi giochi tipo anche come Fortnite che bloccava la cartella del gioco e non si avviava sul computer, quindi mettiamola direttamente nelle esclusioni di Windows Defender. Clicca qua sopra su sicurezza di Windows, protezione da virus e minacci, scendi fino a giù fino a trovare, gestisci impostazioni, esclusione, aggiungi o rimuovi esclusioni e facciamo sì. Aggiungi un'esclusione, cartella, vai direttamente sul disco dove hai installato il gioco, quindi vado direttamente nella libreria di Steam, quindi Steam Library, Steam Maps, Common, Call of Duty, HQ, seleziono così la cartella. Una volta fatto, chiudo direttamente Windows Defender. Bene, una volta fatto questa cosa su Windows Defender andiamo direttamente nei documenti del nostro disco locale C, documenti, Call of Duty. Cancelliamo così la cartella Call of Duty. Chiudiamo qua, vai direttamente su esegui. Scrivi qua sopra %AppData% per entrare così nella cartella di AppData. Facciamo OK. AppData, local. Scendiamo, fine giù. Se c'è la cartella di Call of Duty, eliminiamo quella cartella. Se no, eliminiamo direttamente la cartella Steam. Perché una volta eliminato tutte le cache, dobbiamo solamente accedere al nostro account, quindi mettere di nuovo le nostre credenziali. Potete cancellare la cartella Steam facendo un ripristino. Oppure andando direttamente su Steam qua sopra, Impostazioni, vai direttamente su Download, pulisci la cache. Pulire la cache potrebbe risolvere i problemi di download o di avvio delle applicazioni. Una volta pulita così, pulisci le cache. Faccio pulisci, chiusura di Steam in corso. Se ti fa mettere di nuovo le credenziali, metti le credenziali, fai il login. Libreria. Call of Duty. Ora andiamo direttamente su Gestisci. Proprietà. Opzione di avvio. Io lo avvio sempre in questa modalità per non avere problemi di crash, lag e altre cose così. Perché in questo caso, se gioco con grafica molto alta e ultra, anche se ho una buona scheda grafica, mi può crashare il gioco per problemi di schermo che non si abbinano così sul desktop. Quindi lo schermo che non si abbina, quindi comincia anche a lampeggiare, oppure problemi a scatti, lag e tutte queste cose qua. Può crashare il gioco. Quindi lo tengo su trattino DXLevel90 DirectX9. Mettilo pure tu, se no lo vuoi mettere, puoi anche avviare il gioco senza questa opzione. File installate, faccio verifica integrità dei file del gioco. Ogni volta che ho questi problemi all'avvio su Steam, li risolvo in questo modo. Mettendo la cartella Windows Defender, cancellando le cartelle in AppData, rimuovendo le cache di Steam e facendo la riparazione, si avviano i giochi senza nessun problema. Un file non sono stati convalitati, quindi un file non sono stati convalitati e verranno riscaricati. In questo caso qualcosa nella sua cartella è sparito. Quindi qualche file è sparito e ora Steam lo sta ripristinando. Prima di avviare il gioco ti consiglio anche di andare un attimo nella sua cartella. Verifica in corso, 144% che non ho mai visto su Steam, non capisco cosa sia. Installazione in corso, aspettiamo un attimo che finisca l'installazione. Perché dobbiamo andare anche nella sua cartella, quindi facciamo sfogliare i file locali. Scendo fino a giù, fino a trovare code. Questa propria applicazione è code di 422 MB. Tasto destro sopra, mostra attropazioni, proprietà. Firme digitali ed eccolo qua. Ci clicchiamo sopra. Mercoledì 9 ottobre 2024. Visualizza il certificato. Installiamo il certificato. Utente corrente, computer locale, devi farlo su tutte e due. Quindi facciamo avanti. Facciamo fine. Facciamo ok. Installare certificato, computer locale. E facciamo ok. Ora non mi resta che avviare il gioco. Il gioco si sta avviando. Anche facendo tutte queste procedure. Il gioco si è avviato. Smettendo di cliccare su avvia. E poi si dice ferma. E poi dice avvia. Quindi abbiamo risolto il problema. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.